Mobilità in Europa dal 30 luglio, regole più severe per le aziende italiane. Covid-19, la mobilità internazionale è solo rimandata per metà delle imprese. Ben ritrovata una nuova edizione di ECA Italia News. Scatta il conto alla rovescia per l'applicazione della nuova direttiva europea sul distacco transnazionale. Con la riapertura delle frontiere interne dell'UE, infatti, sono riprese sia le trasferte sia i distacchi temporanei di lavoratori. Per questo è essenziale che le aziende comincino a prepararsi ai nuovi obblighi previsti dalla direttiva 957 del 2018, che alcuni stati membri come Francia, Belgio e Slovacchia hanno già recepito. Dal prossimo 30 luglio, quindi, verranno introdotti nuovi vincoli per i datori di lavoro. In particolare, la novità principale consisterà nella piena equiparazione delle retribuzioni dei lavoratori distaccati a quelle dei lavoratori locali, e non più la sola applicazione del salario minimo. Inoltre, dopo i 12 mesi di distacco prorogabili per ulteriori 6, sarà prevista l'applicazione integrale delle condizioni di lavoro del Paese estero, fatta eccezione per quelle che riguardano la cessazione del rapporto e i fondi integrativi. Per aggiornamenti e chiarimenti sui nuovi obblighi per le aziende italiane in caso di invio di lavoratori in Europa, è possibile rivolgersi agli esperti di ECA Italia, scrivendo a postedworkers.eu.ecaitalia.com. Gli impatti da Covid-19, come sappiamo, stanno mettendo a dura prova le aziende nella gestione della forza lavoro internazionale, e gli interventi a supporto degli espatriati sono molto diversificati. È quanto emerge dalla recente poll survey realizzata da ECA Italia con 47 multinazionali. Secondo l'indagine, le maggiori difficoltà di gestione sono riconducibili agli aspetti logistici e organizzativi per il rientro degli espatriati. Il 59% delle aziende intervistate non è intervenuto sul pacchetto di indennità e benefits, preferendo mantenere la situazione invariata data l'eccezionalità della fase emergenziale. Il restante 41% registra interventi molto diversificati, come la sospensione delle indennità nel periodo di rientro in Italia o l'erogazione di importi, una tanto, ma per gli espatriati rimasti nel paese di assegnazione. Infine, per la metà del campione, la mobilità internazionale è solo rimandata e la percezione è che nel futuro sarà maggiore il ricorso a soluzioni tecnologiche che facilitino la tracciabilità del personale e supportino il lavoro a distanza. La versione integrale dell'indagine è scaricabile sul blog di ECA Italia di staccoestero.com. Con questo aggiornamento è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci alla prossima puntata.